Dunque Ischia Ponte che diventa un palcoscenico a cielo aperto ma non solo, assessore di che scuolo? Esattamente così, Ischia Ponte nasce proprio per questo, per trasformare Ischia Ponte in una vetrina e in un palcoscenico. Abbiamo pensato che accompagnare i turisti e gli ischitani con un sottofondo musicale, di musica classica, classica napoletana, potesse essere un modo per raccontare una Ischia Ponte da un punto di vista culturale, artistico. Abbiamo chiesto che fossero aperti i portoni e come potete vedere all'interno di questo portone, il portone di Lanfreschi, c'è una mostra di quadri e così altri portoni ospiteranno altri artisti. Le chiese sono aperte, i musei sono aperti, è possibile visitarle. Quindi c'è una poetessa, la Caster, che sarà proprio davanti alla libreria in aria, artisti di strada. È un momento in cui tutta l'arte si incontra. Ogni forma di arte stasera sarà rappresentata per un tre ore, soprattutto di grande musica e con un concerto finale che si terrà poi a mezzanotte nella piazza della Ragunese. E lì, con questo pianoforte che già adesso è rialzato su un palco, si uniranno tutti i musicisti in un concerto di una mezz'ora che poi saluterà. Spero che questo sia il primo appuntamento. C'è la volontà da parte dei cittadini, dei abitanti di Ischia Ponte di ripetere questa esperienza. L'hanno accolta con un entusiasmo che veramente mi ha emozionata, posso dire. I turisti entusiasti ci chiedevano oggi cosa stavamo facendo. Naturalmente il posto ci aiuta tantissimo perché lo scenario è fantastico, per cui ci auguriamo che la serata sarà bellissima.